si sente un gran frastuono sulla strada che sale a negrar un rumore di scoppi continui rompe la quiete agreste della valpolicella ma non sono spari neppure fuochi d'artificio la gente si ferma dal consueto lavoro sui campi alza lo sguardo interrogandosi sulla provenienza se i giovani si danno di gomito e le donne sono stranite il vecchio beppi che frequenta l'osteria di quinzano poche curve più giù è più tranquillo sembra quasi non volersi curare di quel rumore molesto in avvicinamento a tutta l'aria di chi conosce la risposta ma è una locomotiva qua tra le vegne chiede suo nipote no no marietto a lei che il matto di bernardi aspetta adesso arriva è il gala carossa senza cavai quel matto di bernardi sì il professor bernardi questa è la sua storia è quella della prima motocicletta al mondo che non era una vera e propria motocicletta e non fu costruita in germania inghilterra o giappone ma nella provincia veronese e mosse i primi passi in lessinia un po come il sottoscritto io sono nicola andretto e questa è un'altra puntata di storia in moto generosi folli introversi o eccentrici baciati dalla debbettata o condannati da un ineffabile destino sono i motociclisti uomini e donne infiammati da una passione difficile da spiegare a chi non la prova ma che li spinge a scelte fuori dal coro e talvolta imprese eccezionali fin da bambino sono stato affascinato dalle loro storie e ho deciso di raccontartele queste sono le mie storie in moto enrico bernardi nasce nel 1841 al numero 4 di via san paolo a verona ma passa i mesi estivi nella frazione di quinzano che dalla città scaligera guarda verso i monti lessini e fin da ragazzino dimostra una curiosa attrazione verso i mezzi di trasporto che a quel tempo sono carretti carrozze locomotive e locomotorie a vapore dai quali si diletta persino a calcolare le traiettorie il motore a scoppio di barsanti e matteucci viene inventato quando lui ha 12 anni appena ne apprende notizia è una folgorazione il motore lo rapisce più di ogni altra cosa soltanto tre anni più tardi nel 1856 appena 15enne si presenta all'esposizione agricola di verona con alcune macchine realizzate con le sue mani all'officina ferroviaria beh quel ragazzo è un prodigio nel 1863 soltanto sette anni più tardi si laurea in matematica all'università di padova e si avvia una carriera accademica e agli studi di meccanica in poco tempo diventa un vero e proprio luminare mosso da entusiasmo e da un'incrollabile convinzione il motore a scoppio sostituirà la forza animale nella trazione nel 1873 effettua uno studio su un motore a gas illuminante secondo il ciclo di barsanti e matteucci è chiaro che sta lavorando su varie forme di combustibile su varie soluzioni bernardi è particolarmente interessato infatti anche ai consumi e alla praticità di funzionamento che il motore a scoppio funzioni per lui è cosa già sodata mentre il mondo ancora si interroga su cosa sia lui si chiede come farlo funzionare meglio e come far sì che sia effettivamente utilizzabile da chiunque anche da un bambino questo distingue l'animo dell'autentico pioniere dal semplice studioso sperimenta di continuo lo fa all'università certo ma lo fa anche a casa a verona e nella piccola quinzano dove i vicini ben presto si abitano alle sue strane e rumorose invenzioni ce n'è una in particolare che lascia i compaesani di stucco e molti ne lascerà negli anni a venire fino ai giorni nostri si tratta di un piccolo motore a scoppio molto ingegnoso l'ha inventato per sua figlia pia e lo ha attaccato alla macchina da cucire in suo onore l'ha chiamato appunto matrice pia e cosa più importante funziona funziona per davvero è il 1880 nessuno al mondo ancora fatto nulla del genere lo perfeziona intuisce la sua versatilità ne vuole fare un motore per molti usi e due anni più tardi lo brevetta il pomeriggio del 5 agosto del 1882 entra all'ufficio brevetti e alle ore 14 e 30 deposita i disegni del motore che ha chiamato pia perché ha intenzioni di produrlo industrialmente almeno non appena troverà dei finanziatori nessuno prima di lui ha mai progettato un motore del genere è infatti il primo motore di sempre a funzionare con uno strano combustibile economico e a quel tempo snobbato che viene detto lo spirito di petrolio a quel tempo il cosiddetto spirito di petrolio è un sottoprodotto di scarto della distillazione e non ha molti utilizzi anzi generalmente viene addirittura gettato nei fiumi qualcuno lo acquista in piccole quantità in drogheria per smacchiare i vestiti ma ha quell'odore forte nauseante insomma non è decisamente un prodotto di successo ma la sua storia proprio a partire da quel 5 agosto e da quei disegni di bernardi sta per cambiare nello stesso periodo anche altri ingegneri sono al lavoro sul motore a scoppio il 25 ottobre dello stesso anno karl benz in germania deposita un brevetto analogo e anche un altro tedesco gottblied daimler il 16 dicembre del 1883 ne registra un altro che utilizza sempre lo stesso prodotto di scarto questo questo idrocarburo aromatico conosciuto come spirito di petrolio appunto solo che qui non lo chiamano così ma ne derivano il nome dall'acido benzoico da cui deriva lo chiamano benzina a quanto pare è questa la chiave di svolta per il motore a scoppio ed assieme si apprestano la propria scesa su scala mondiale ma torniamo alle porte di verona dal nostro pioniere alla figlia pia si è giunto nel frattempo un maschietto che il professor bernardi ha chiamato lauro come il nonno e al piccolo e vivace lauro non può certo offrire una macchina da cucire così rifa il motore pia lo migliora e ci costruisce attorno un piccolo triciclo di legno per il figlioletto quando scendono per le vie di quinzano a provarlo è il finimondo incredibile si muove davvero e funziona con l'economicissima benzina nessuno ha mai visto niente del genere e come potrebbe non esiste nulla del genere è il 1884 e quel triciclo è il primo veicolo a benzina mai costruito ma non è destinato ad avere fama ancora per moltissimo tempo nonostante bernardi lo porti all'esposizione internazionale di torino e conquisti il primo premio si parlerà a lungo e molto di più di quello che costruirà car benz qualche mese più tardi e che viene un animamento ancora oggi riconosciuto come l'antenato della motocicletta in quel momento tutto questo non importa un granché e nessuno sa o si chiede chi verrà ricordato per aver inventato la motocicletta aggeggio che di fatto non esiste l'unica certezza che abbiamo oggi è che il brevetto del piccolo triciclo di bernardi arriva prima di quello di benz ma il suo ingegno non finisce qui e c'è altro che ci fa ricordare il professor bernardi quale padre della motocicletta le sue sperimentazioni col motore pia infatti non finiscono nel 1892 presumibilmente sempre per il figlio lauro decide di usarlo per muovere una bicicletta la soluzione più logica quel tempo è montarlo su un carrettino monoruota agganciato a traino impossibile mettere il motore all'interno del telaio o in altra posizione il motore ha ora una potenza di 0,3 cavalli sufficienti però a spingere i 30 kg del rimorchietto e la bici alla velocità ottenibile da un ciclista allenato il motore si avvia a pedali ed è addirittura raffreddato a liquido con distribuzione con valvoli in testa lubrificazione a perdita accensione tramite rocchetto rum corf e pile a secco schiacciando una piccola pera di goma montato sulla destra del manubrio viene mandato in circolo dell'aria chi di lato un diaframma che a sua volta fa scorrere una piccola sticella così facendo si comanda il dispositivo di ammissione del carburante in pratica è un acceleratore un acceleratore a pera il motore a rimorchietto grazie a una puleggia può girare anche in folle e in definitiva non solo è a tutti gli effetti un motociclo contraruota in linea ma è la prima motocicletta italiana e a quanto ne sappiamo della storia bernardi ne annota anche i consumi da 7 a 10 grammi al chilometro la bicicletta con rimorchietto benché coperta da due brevetti rimane però un prototipo perché il professore si dedica a costruire la prima auto italiana nel 1894 presenta una vettura con tre ruote la prova proprio sui percorsi della valpolicella e della lessina portando a spasso la moglie piuttosto imbarazzata e stupendo chi incontra sul proprio cammino avvia la produzione industriale con il marchio miari e giusti e quattro anni più tardi nel 1898 è la prima vettura italiana a vincere una competizione la torino asti alessandria torino tuttavia è ancora uno sfizio troppo costoso e delicato in anticipo sui tempi e gli affari non vanno come sperato da miari giusti chiude presto i battenti bernardi continua l'insegnamento a padova però sa che il futuro è nel motore a scoppio e ne ha già costruito uno a benzina a quattro tempi ed è proprio mentre è a padova che un giorno gli si avvicina un gentiluomo torinese che ha appena avviato un'attività con alcuni soci l'hanno chiamata fabbrica italiana automobili torino e lui si chiama giovanni agnelli questa però è un'altra storia spero che anche questa puntata dedicata a enrico bernardi ti sia piaciuta e se vuoi vedere con i tuoi occhi il motore pia beh lo puoi trovare al museo nicolis di villa franca di verona un luogo magico che ti consiglio di visitare grazie per aver ascoltato storie in moto